Canigattini Bagni, Covid-19, chiusura parziale del mercato di venerdì 22 e 29 gennaio. Il primo cittadino di Canigattini Bagni, Marilena Miceli, con proprio ordinanza numero 1 del 19 gennaio 2021, ha disposto la chiusura del mercato settimanale del venerdì nelle giornate del 22 e 29 gennaio. Sono esclusi dal provvedimento le attività dirette alla vendita di soli, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. L'ordinanza scaturisce nell'ambito dell'articolo 3,b dell'ultimo DPCM del 14 gennaio 2021 e dell'ordinanza numero 10 del 16 gennaio del Presidente della Regione Siciliana di ricevimento e istituzione della zona rossa in Sicilia al fine di contenere e ridurre i contagi da Covid-19.